Il Teatro dei Giovani a Sant'Arsenio continua a macinare i successi. Il sostegno della Banca Montefruno, unitamente al Circolo Banca Montefruno e all'Associazione Montefruno Giovani, contribuisce in maniera notevole alla valorizzazione dei talenti e alla diffusione delle potenzialità dei giovani. Sabato scorso, 11 marzo, il Teatro Amabile di Sant'Arsenio ha ospitato la rappresentazione teatrale Non mi dire te l'ho detto, portata in scena dai ragazzi della Compagnia Teatrale Sant'Arsenio ieri, oggi e domani, che ha divertito il pubblico presente ma ha anche messo ancora una volta in risalto la passione e le potenzialità dei giovani del territorio che hanno dimostrato la loro grande voglia di fare e di guardare al futuro mantenendo vive le radici, legate in particolare all'arte teatrale sempre fiorente a Sant'Arsenio. Grazie al contributo del Circolo Banca Montefruno, presieduto da Aldo Rescinito, e all'Associazione Montefruno Giovani, presieduta da Sebastiano Greco, supportati nel percorso associativo dalla Banca Montefruno guidata dal Direttore Generale Michele Albanese, per i giovani della Compagnia Teatrale, sabato scorso è stato nuovamente possibile esibirsi e far conoscere al pubblico la loro capacità, regalando divertimento e raccogliendo applausi. Una serata che è stata occasione per ribadire la volontà della Banca Montefruno di sostenere i giovani e di supportarli nelle loro passioni e nei loro sogni. Un supporto che è stato ribadito soprattutto dal Direttore Generale Michele Albanese, che nel suo saluto al pubblico ha messo in evidenza la capacità di tante associazioni presenti a Sant'Arsenio di creare cultura, alle quali l'Istituto di Credito non farà mancare il suo supporto.